Tvrs People, siamo di nuovo qui in diretta dalla sede di Fano per la trasmissione che va in onda dopo il Tg del pranzo e nella quale parliamo dei temi del momento. Oggi ne trattiamo uno molto attuale e prelibato, c'è un odorino in studio davvero gustoso, peccato che non possiate sentirlo. Parliamo del tartufo, sono esposti proprio qui davanti e affrontiamo questo tema con un ospite d'eccezione, è con noi il direttore artistico dell'Accademia del Tartufo nel mondo, Giuseppe Cristini. Benvenuto. Grazie Camilla, grazie a Tvrs, un momento bellissimo di narrazione. Il territorio per fortuna produce molti tartufi e gli appuntamenti fioccano in questo periodo. Tu sei reduce dal Salone del Gusto e ci parlerai adesso di questo tubero afrodisiaco. Il tartufo è un prodotto di grande prestigio dell'agroalimentare regionale, è un elemento di attrazione e motore economico per tutto il territorio, crea posti di lavoro, crea reddito, è un esaltatore sensoriale che fa parte della nostra cultura. Come lo descriveresti in una sola parola o in pochissime parole? Ma è un miracolo della natura. Diciamo che non si decide la sua produzione, lo decidono complessità atmosferiche, l'integrità del bosco, l'opera dell'uomo, ma anche la stagionalità è importante e soprattutto nelle marche, come dici te, e in particolare nella provincia di Pesaro-Urbino, le tipologie di tartufo edibili le abbiamo tutte tutto l'anno. Il 25 settembre in regione si è aperta la raccolta del tartufo bianco, finalmente una buona notizia mi viene da dire. Sì, perché diciamo che il tartufo, come hai detto, è un calamitatore di benessere economico, ma soprattutto è un gesto d'amore verso la natura, perché il binomio cavatore, cagnolino e ambiente, veramente poi hanno ricevuto anche l'onorificenza di patrimonio immateriale dell'umanità tutelato dall'UNESCO, è qualcosa che ci caratterizza e tutto arriva in cucina per esaltare la ristorazione marchigiana e italiana. Direttore, come va, come andrà la stagione dopo il Covid, dopo la terribile alluvione delle scorse settimane e anche un po' di siccità? Certo, è innegabile. Abbiamo aperto solo da due giorni e quindi abbiamo il primo profilo, però siamo ottimisti, siamo ottimisti perché già vediamo qui, questa è assolutamente marchigiana, questa pepita fanese addirittura di queste terre, probabilmente dilateremo le buttate, come dicono la copiosità del tartufo, però già cominciano a uscire perché quella spora, quella ifa e quel micelio non vuole morire mai e quindi il suo obiettivo è venire alla luce e creare una grande preziosità, che è il carpoforo che genera il tartufo. Sì, la stagione partirà leggermente in ritardo, ma ci sono tante fiere che sono pronte ad aprire i battenti, quella di Pergola è in forse, appunto proprio per l'alluvione facciamo un grande bocca al lupo dei pergolesi, però nei mesi autunnali ce ne sono tante che riprendono vigore dopo il Covid. Certo, quando stacca il turismo della costa si apre quello dell'entroterra, pensiamo in questi giorni ai funghi di San Sisto, pensiamo a breve alle castagne, pensiamo naturalmente ad Apecchio che apre sabato e domenica. Ecco, il tartufo vuole un'integrità assoluta, le fiere sono un richiamo internazionale e soprattutto la bellezza è che quella ristorazione, anche se non stellata, può ospitare un pubblico democratico. Non devi spendere migliaia di euro e se non puoi permetterti una lamellata di bianco, ci sono sempre i neri pregiati che sono adorabili. Sì, adesso veniamo più nello specifico, abbiamo detto che in questo periodo il clou è proprio il bianco, ma quali sono le differenze in poche parole tra i due magnifici tuberi per i meno idotti? Certo, ma guarda, te lo dico Camilla, tu sai che le pepite vanno trattate in guanti bianchi, soprattutto quando le tocchi con le dita e devono essere lamellate davanti all'ospite, per cui il bianco è eleganza, seducenza, è qualcosa di unico, perché i profumi che vanno dalla vaniglia al tiglio a una nota meravigliosa di miele, li trovi solo sul bianco pregiato e va messo veramente dall'antipasto al dessert e soprattutto la finezza è che, diciamo, ha una eleganza unica e questo è il bianco pregiato. Il nero, ma in questo caso è una bella pepita di tuberoncinatum sulle carni, su dei filetti, ma anche su un bellissimo uovo grattugiato e non lamellato diventa un grande lisir e la piacevolezza di vedere anche che puoi degustare un tartufo anche a prezzi più corretti. Abbiamo già l'acquolina in bocca, Giuseppe, hai parlato di prezzi, quindi la domanda è d'obbligo. C'è un range, io credo che non sia proprio a buonissimo mercato, ma come si valuta il prezzo del tartufo? Si valuta quotidianamente, dipende da quanto i raccoglitori, i cavatori o trifolai, trifolau come dicono, ne raccolgono durante la giornata. In questo momento il prezzo è alto per il bianco, perché non neghiamo, la siccità ha tolto un po' di produzione, ecco, una pepita di questo livello al chilo, parliamo sui 3.000 e 3.500, questa sarà sugli 80 grammi, però ricordiamo, con 80 grammi soddisfi benissimo almeno 10 persone. Quindi se facciamo un paragone, il tuber uncinatum, che è una naturale emanazione del tuber estivum, andiamo sugli 8-900 euro, ma una pepita di questa natura addirittura ne arriva a fare 15 assaggi. Tu che sei un sommelier professionista, che vino consiglieresti da abbinare a questo fantastico tuber, a questa gemma, per un matrimonio perfetto? Bravissimo. Ti do tre esempi, uovo con il tartufo, la bollicina più cremosa che abbiamo in cantina, la tagliatellina con mantecata, con burro, grana padano e tartufo, un ottimo bianchello del metauro superiore. Se vogliamo poi metterci anche un filetto di marchigiana con della salsa di casciotta d'urbino, andrei su un rosso giovane e non esiterei a dire un pergola rosso. Per arrivare al dessert, dove metterei tranquillamente, e poi ve lo racconterò, un formaggio di fossa con dello zafferano e del tartufo bianco e un po' di crema chantilly, ci mettiamo un bel passito di verdicchio di matelica che diventa un'elisiera assoluta. Sei una dolcezza assoluta anche soltanto dalle tue parole. Bene, adesso l'associazione dei tartufai più numerosa è quella di Fossombrone, è andato da quelle parti il nostro Lino Balestra per andare a intervistare un custodio del Bosco per le Marche, come lo chiami tu, Silvano Petreti, le domande riguardano la stagione che verrà. Andiamo a sentire e a scoprire che cosa ci racconta Lino da Montefelcino. Allora, siamo cara Camilla nel mezzo di una tartufaia e siamo insieme al suo proprietario. In questo periodo è partita la vostra attività, giusto? Sì, si è aperta la ricerca del tartufo bianco pregiato. Le piogge degli ultimi giorni dovrebbero avere favorito la produzione per i mesi di novembre e dicembre, mentre a ottobre purtroppo la carenza di pioggia nel mese di agosto è stato fortemente condizionato. Che prodotto ci si aspetta quest'anno? Quali sono le aspettative che avete? Le aspettative al momento sono di una pezzatura abbastanza modesta, però per il futuro confido delle buone pezzature. Come qualità sicuramente sarà indiscutibile perché quanto vanno le stagioni secche la qualità è eccellente. Non si discute su questa cosa. Penso di trovare qualche bella pepita verso la fine di novembre perché questo è il momento proprio buono perché accrescano quindi le piogge fanno fatto la loro parte per questo. La loro parte. Allora, però noi siamo con i piedi su un tartufale di nero pregiato che anche questo è un bel prodotto che abbiamo qui nei nostri territori. Sì, il nero pregiato sicuramente è un prodotto ottimo e se andiamo a vedere in Francia lo prediligono al nostro tartufo bianco. Può essere anche, parliamo più in generale, anche una fonte di reddito, un'attività vera e propria. Volendo ci sono state sperimentazioni, la Regione Marche ha anche avviato sperimentazioni in questo senso per creare un vero e proprio indotto. Sì, la Regione Marche sono da tanti anni che ha avviato questo progetto. Abbiamo il centro di tartuficultura di Sant'Angelo di Vado che è un po' un fiore all'occhiello a livello italiano e direi se non anche a livello europeo su questo fatto. Riescono a fare delle piantine molto molto buone e la produzione diciamo che è intorno all'80% quindi siamo siamo a degli ottimi livelli a livello di piantine micro rizzate. Questo naturalmente è tutto frutto della Regione che ci ha messo l'impegno da tanti anni però a questa parte. Spieghiamo anche il processo, cioè queste sono piante che hanno già le spore dentro giusto? Sì, bisogna innanzitutto avere il terreno dato, poi dopo il processo è abbastanza lungo perché si va ad inseminare, inoculare le spore del tartufo nelle radici della pianta cercando che questo naturalmente vada a buon fine perché non sempre questo processo va a buon fine però adesso con le tecniche che ha fatto riescono ad avere un 80-90% di prodotto che funziona. Però l'elemento cardine di tutto oltre al bravo cavatore che sa il mestiere suo c'è sempre il fido animale a quattro zampe che senza di quello non ci possiamo fare niente. Sì, spesso noi vediamo il tartufo, il cavatore, il ristoratore ma non ci ricordiamo di che è il vero artefici di questa cosa perché senza cane purtroppo non si riesce a fare niente. Passa sempre in secondo piano anche essendo il protagonista principale diciamo. Che augurio ci possiamo fare per gli amanti di questa prelibatezza della nostra terra. L'augurio e confidiamo in madre natura che ci dia qualche bella pepita poi dopo naturalmente questo è un prodotto che è eccezionale il tartufo bianco pregiato penso che non abbia bisogno di grandi proclami perché chi lo conosce chi lo apprezza dicevano caccia a loro bianco. Adesso quest'anno anche su questo fatto sarà un po' la caccia a loro bianco in quanti prezzi sono già in partenza abbastanza elevati e si pensa che saliranno ancora. Il nostro è un tartufino forse brutto magari da vedere un po' brugnoso un po' brugoloso però sulla qualità e sull'eccellenza del nostro prodotto della nostra terra non ci piove. Il nostro è un tartufo che parecchi lo definiscono come hai detto tu ma io non sono pienamente d'accordo non sono perché noi abbiamo delle ottime pepite che spesse volte ci ruba il mercato di alba facendoli passare come loro perché noi abbiamo tra i tartufi più buoni in assoluto. Quindi sfatiamo un mito i nostri non sono brutti ma belli ma sono anche belli e buoni va bene allora adesso restituiamo la linea allo studio camilla è il tuo ospite che parlerete anche delle applicazioni sulla tavola che questo bellissimo frutto della natura può dare a chef e amanti e gourmet grazie grazie a te grazie mille Alino è suo ospite il tartufo racconta un messaggio di pace di territorialità d'amore naturalmente mi ha colpito Giuseppe una dichiarazione del custodio del bosco della Toscana che ha detto ci stiamo perdendo il tartufo l'errore aver stravolto l'ambiente senza averlo rispettato il rischio è che a breve il tartufo non lo avremo più le tartufaie naturali sono praticamente scomparse e l'habitat del tartufo è stato sconfitto dall'agricoltura moderna e così dobbiamo preoccuparci per il tartufo e per chi lo adora tipo la sottoscritta purtroppo sì perché i boschi vanno tenuti in ordine puliti vanno creati degli ambienti di grande generosità non vanno scavati troppo a fondo i terreni e soprattutto le piante che sono un po stanche vanno reimpiantate se ci perdiamo questo elemento la natura ci castiga purtroppo come è accaduto quindi rimpiazzare quello che comunque viene perso perché è sempre il bosco che genera il tartufo esistono svariate ricette a base di tartufo abbiamo tanti testimonial in regione che possono parlarne e che sono innamorati proprio del tartufo come Davide Mazzanti e Serena Ortolani che sono marchigiani doc e acquisita che hanno un piatto del cuore la tagliatella della zia di Davide con burro e olio locale naturalmente copioso tartufo è importante anche avere questi personaggi che parlino tanto di quello che succede nella zona che raccontino il tartufo con semplicità e passione e questa è soltanto una delle moltissime ricette possibili. Hai detto bene Camilla abbiamo incontrato Davide che in questi giorni sta generando un bel mondiale di volley ci siamo per lui Forza Italia bravissima con Serena altra grande campionessa io li ho incontrati dice mi hanno insegnato da bambino la tagliatella della zia è migliore rimane sempre il piatto simbolo in questo caso era il nero pregiato e utilizziamo l'olio quando utilizziamo i bianchi pregiati i grassi animali il burro o i formaggi sono meravigliosi sempre un calice dei nostri vini perché un piatto di gran classe e un calice della preziosità può diventare anche un piatto unico che ci rappresenta quotidianamente. Assolutamente sì. Bene è tutto per questa puntata di TV RS People il tempo è tiranno ed è volato io ringrazio infinitamente per la sua presenza e la sua compagnia il direttore artistico dell'Accademia del Tartufo nel mondo Giuseppe Cristini Grazie, grazie Camilla e grazie ai nostri telescoltatori Grazie tante a tutti voi e buon proseguimento di giornata con i programmi della Rete Grazie a tutti